buongiorno a tutti eccoci arrivati con un nuovo video del sabato quest'oggi non parleremo di euro dollaro abbiamo fatto un sacco di video negli ultimi sabati dedicati appunto a questo a questo cambio valutario ma oggi voglio portarvi un altro un'altra bella chicca del trader marty schwarz su cui avevo fatto forse l'ultimo video di questa diciamo rubrica dedicata al libro che vi prendo qui market wizards eccolo qua in realtà poi ce ne sono anche altri di libri uno lo vedete tra l'altro alle mie spalle qui qua sotto qua come si fa così eccolo lì vediamo un po così eccola e e su questi su questi video diciamo vado a prendere delle delle risposte alle domande che il buon jack di schweger ha fatto a questi trader e come dicevo nelle altre negli altri video diciamo ci sono delle cose interessanti da andare a a prendere come spunto e soprattutto alcune di queste di queste frasi di queste risposte a queste domande sono molto in linea con quello che noi in ear forex arduino antonio eleonora tutti noi di ear forex cerchiamo comunque di ribadire quando ci scrivete delle mail quando ci chiedete dei dei consigli insomma riguardo a l'inizio dell'attività di trading l'approccio al trading e tutte queste dinamiche che sono molto importanti ovviamente prima di iniziare questo video poi vi chiedo di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti vi chiedo di attivare la campanellina perché questo vi permette di rimanere sempre collegati con le notifiche ai nostri video le nostre live e anche di lasciare un mi piace se questo video vi piace bene a questo punto io partirei subito da una considerazione prima di andare sulla risposta a una domanda la domanda è perché il più dei trader perde soldi ho preso spunto da una telefonata avuta qualche giorno fa con un ragazzo ma in generale è un comportamento diciamo un modo di porsi al trading che è noto essere abbastanza comune soprattutto nell'ultimo periodo negli ultimo anno e mezzo ultimi due anni probabilmente complice un mercato azionario in estremo rialzo mercato azionario prendo lo standard pur 500 che ha avuto esclusivamente dei rialzi ma anche se andiamo a prendere per esempio il mondo delle criptovalute prendo il bitcoin come massimo esponente delle criptovalute dove sì ci sono stati dei forti di bassi in volatilità però tendenzialmente il bitcoin che quotava pochissimo dieci anni fa oggi quota praticamente 60 mila dollari quindi ecco quello che ho notato è questo credersi già degli ottimi investitori di breve termine degli ottimi trader dopo un anno e mezzo di attività due anni tre anni di attività in un momento del mercato soprattutto in alcuni mercati in alcuni settori diciamo quindi l'azionario in alcuni asset class quindi azionario e in questo caso criptovalute che sono sempre salite quindi in linea generale c'era un po c'è un po questo questo modo di vedere il trading come ma sì tanto comunque io aspetto un lieve ritracciamento oppure anche no proprio in maniera totalmente selvaggia si entra long e tanto comunque il mercato poi alla fine mi pagherà quindi diciamo questa questa idea che comunque le criptovalute saliranno il bitcoin che comunque l'SB500 non si arresterà mai e continuerà solo a salire poi magari tra dieci anni sarà ancora salito però nell'ottica di giorno per giorno settimana dopo settimana mese dopo mese anno dopo anno ci possono essere invece delle situazioni diverse e quindi eh questo secondo me va abbastanza bene a mh diciamo eh va a prendere spunto da quello che è eh la domanda e la risposta che voglio farvi vedere oggi eh la risposta di questo trader marty schwarze su cui ripeto avevo già fatto un altro un altro video probabilmente l'ultimo di questa rubrica e eh la cosa la cosa interessantissima è che eh si parla sempre delle perdite dell'accettazione delle perdite e questo ci viene molto d'aiuto perché perché come sapete e come vi ho appena detto se siete dei trader chiamiamoli così che sono partiti da un anno e mezzo da due anni a fare trading hanno sempre vissuto un certo tipo di mercato e quindi si sentono sicuri che quel mercato non potrà fare diversamente si iniziano poi soprattutto per chi non ha consapevolezza esperienza competenza eh di un certo tipo si iniziano a pensare i mercati in un certo modo si inizia a gestire se così vogliamo dire il rischio in maniera molto leggera e quindi è più facile che poi si possano venire a verificare non dico neanche delle perdite ma dei completi default quindi vado a prendere questa frase quindi vado a condividere in questo caso il monitor così anzi faccio così così magari è anche più eh più chiaro benissimo ovviamente l'intervista abbiamo già preso alcuni alcuni punti di questa intervista una parte di quella che in più che vi voglio leggere è questa eh perché i più dei trader perde cioè questo eh è questa è la domanda e su cui tra l'altro ho anche impostato il titolo di questo video ovviamente ci sono svariati motivi però questo probabilmente è uno dei principali motivi e il buon Marty Schwartz risponde perché eh i trader preferirebbero perdere soldi che ammettere di aver sbagliato qual è la più importante diciamo ehm razionalizzazione di un trader in una in una posizione imperdita chiede eh dice nella sua nella sua risposta a questa domanda dice qual è la massima no razionalizzazione del trader in una posizione imperdita e lui risponde sempre eh uscirò quando sarò a break even cioè uscirò quando sarò in pari eh perché arrivare ad essere in pari è così importante sempre lui si fa la domanda mentre risponde perché protegge l'ego su questa cosa dell'ego Marty Schwartz ci va spesso ehm sono diventato un trader profittevole quando sono stato capace di dire al diavolo il mio ego fare soldi quindi guadagnare nei mercati è più importante questa è la frase che diciamo riassume un po' quindi perché il più dei trader perde soldi diciamo che tendenzialmente quello che ci dice Marty Schwartz è quello che anch'io sono eh su cui sono molto d'accordo e su cui probabilmente ci sono passato anch'io nella mia come dire nella mia evoluzione e molti di voi probabilmente si stanno no eh magari fatevi qualche domanda e probabilmente con un esame di coscienza capirete che in effetti tante volte si sono persi soldi o comunque non tanto in un trade ma in ottica più di eh continuativa cioè eh da qui a eh negli ultimi tre anni no i momenti negli ultimi due anni l'ultimo anno i momenti che hanno fatto diciamo eh perdere l'equity della sua forza magari del suo momentum magari sono proprio quelle situazioni in cui non abbiamo voluto uscire eh da una posizione imperta e abbiamo provato a tenere mh in modo sbagliato oppure eh abbiamo pianificato male il nostro trade quindi con degli stop troppo grandi o comunque con dei con dei rischi troppo grandi venendo proprio a eh al discorso che facevo prima cioè i trader che sono avvicinati nell'ultimo anno anno e mezzo due comunque dalle criptovalute in avanti eh hanno vissuto dei mercati soprattutto in quelle asset class di un certo tipo che non è detto che durino in eterno magari già nel 2022 può essere che il mercato sia diverso eh anche solo per un anno mh ecco è questa mh la la poca la la quasi nulla consapevolezza del rischio del mercato perché tanto il mercato paga e e questa cosa che eh ho trovato di Marty Schwarz secondo me è calza a pennello no? Mh tante volte succede che mh non c'è nemmeno gestione del rischio tanto è così quindi io nemmeno addirittura magari uso un rischio massimo di posizione entro ma non so neanche io dove uscirò non io ma il trader che perché tanto comunque il mercato andrà in quella direzione ecco eh e al massimo uscirò quando la posizione mi ritorna a break even o con un profitto ma anche se fosse con un profitto se ci pensate il drawdown il possibile peggior scenario che può avvenire è molto più eh diciamo negativo rispetto a chiudere magari qualche posizione in perdita una piccola perdita eh ma soprattutto la cosa che lui va a a sottolineare qui è ma perché è così importante non chiudere e magari ritornare a break even ma anche in profitto perché è così importante non chiudere in perdita questo è il nocciolo della cosa perché eh è così importante non ehm ammettere no? Di avere avuto una perdita di aver sbagliato diciamo la nostra analisi perché questo protegge l'ego dice cioè questa cosa qui eh crea soprattutto nell'uomo no? Eh quelle problematiche di dire beh al di là del fare soldi a me interessa aver ragione diciamo no? E questo è un gran problema che spesso porta appunto i trader a perdere l'ego ok? A noi non ci frega dell'ego sono diventato un trader profittevole dice quando sono stato capace di dire al diavolo il mio ego fare soldi quindi guadagnare nel mercato è più importante guadagnare nel mercato significa anche chiudere in perdita qualche volta non significa essere sempre in guadagno non significa pensare di avere sempre ragione nel mercato il trader non deve non deve avere l'obiettivo di avere sempre ragione ma deve avere l'obiettivo di tradare bene per guadagnare tradare bene per guadagnare va a inserirsi in un eh come dire in un in un cappello molto più grande che prende anche l'accettazione della perdita il fatto di chiudere in perdita e di di non lavorare con con un ego troppo smisurato prendo l'ultima l'altra domanda che c'è qui sotto qual è il tuo migliore consiglio che puoi dare a un ragazzo ordinario diciamo normale che sta cercando di diventare un trader migliore non leggo tutto leggo solo la prima la prima parte imparare a prendere perdite learn to take losses imparare a accettare la perdita la cosa più importante nel fare soldi sul mercato quindi essere profittevole non è non lasciare che le tue perdite eh vanno fuori controllo siano fuori controllo basta questa 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 queste due frasi quindi vedete che si va sempre a prendere l'accettazione della perdita cioè qual è ehm perché il più dei trader perde risposta perché piuttosto di fare soldi loro vogliono si cerca più che altro di proteggere l'ego e quindi a mettere chiudendo la posizione in perdita o a mettendo uno stop e quindi la posizione poi se non va va in perdita si ammette no di aver sbagliato e e poi dice imparare learn to take losses imparare a perdere imparare ad accettare la perdita ecco credo che io ci sto ritornando spesso su questo argomento nei video questi qui di questi trader perché in realtà questi trader alla domanda perché ci sono problemi a mi guadagno nel trading perché molti trader perdono perché molti trader prima di entrare profittevoli ci vogliono anni eccetera ecco diciamo che in linea generale c'è un comune denominatore che va a prendere proprio questa parte no quindi eh la cosa ecco su cui a me piace soffermarmi è anche questa anche perché lo vedo ripeto un assist mi è stato fatto da un ragazzo telefonicamente qualche giorno fa e eh mi sembrava utile ancora ritornare su questo aspetto perché a mio avviso anche se io qui ne parlo probabilmente molti poi diranno sì ma arduino tanto comunque dice delle cose eh però io tanto continuo a guadagnare e io entro eh così indistintamente sul mercato long senza nessun problema e magari senza nessuno stock di posizione senza nessun rischio massimo preso senza nessuna gestione reale del rischio e e inoltre quello che si dice qui è va bene bisogna più che altro accettarlo rischio cioè chi se ne frega di chiudere qualche posizione in perdita l'importante poi non è tanto chiudere qualche posizione in perdita l'importante che poi alla fine il risultato sia positivo making money is more important dice poi qui no eh nell'ultima nell'ultima frase fare soldi guadagnare sul mercato è più importante che il mio ego in questo momento ed è assolutamente importante quindi vi lascio con l'ultima con questa frase appunto la cosa più importante nel fare soldi sul mercato è non lasciare alle proprie perdite di uscire dal proprio controllo eh get out of hand no uscire proprio dalla propria quindi eh è molto importante cerchiamo sempre di quando facciamo trading o investiamo anche di un po' più di medio periodo comunque di tenere una sorta di eh come dire di torta di rischio dove se noi andiamo ad avere non so uno due tre trade sul mercato che possono essere ripeto con una fascia temporale più o meno breve o lunga ma cerchiamo sempre di dare a quel trade la giusta importanza un trade due tre tre trade non fanno l'anno per un trader ovviamente eh fanno dobbiamo pensarlo come un piccolo step per il profitto e lo step per il profitto potrebbe anche essere che quel anche tutte tre quelle posizioni possono essere chiuse con una perdita perché nell'obiettivo di guadagnare eh dei soldi e quindi di chiudere l'anno in modo eh profittevole è necessario chiudere quelle posizioni in perdita e non lasciare che quella perdita diventi una voragine diventi molto più grande e sia poi poco gestibile o anche se gestibile però poi va ad avere un effetto più eh sentito diciamo più forte nella totalità dei trade e quindi eh diciamo ci crea o un ricavo minore o addirittura poi una chiusura dell'anno in perdita va bene eh spero che questo video vi sia piaciuto spero che possa darvi qualche spunto per il vostro trading e la vostra attività con quotidiana sui mercati io a questo punto vi richiedo di lasciare un mi piace su questo video vi auguro un buon fine settimana noi ci vediamo ovviamente sempre eh il lunedì e il mercoledì con le live su qui sul canale grazie a tutti un saluto grazie a tutti grazie a tutti